Il terzo incontro sulla come rinascere, come la Bibbia ci chiede di rinascere e di impostare una nuova vera rinascita, che non sia un tornare indietro ma che sia un andare avanti. L'altra volta, tra le cose che dicevamo l'altra volta, per capire un poco come il Signore si serve della parola ma anche opera, dobbiamo ricordare che la scrittura ha alcune caratteristiche. La scrittura non è un libro soltanto, è anche un libro, però è un libro che dà voce alla parola di Dio viva. Cioè non si può considerare la scrittura un semplice libro che si legge, si capisce, si utilizza. È una rivelazione di Dio, una lettera che Dio scrive a noi ma che poi risuona viva nella sua comunità. Perché lo Spirito Santo che ha risuscitato Gesù Cristo è lo stesso Spirito che ha ispirato la Bibbia, l'ha portata, possiamo dire, alla verità piena con il Nuovo Testamento, perché nell'Antico Testamento, nella prima parte della Bibbia scritta, ci sono cose imperfette e temporane. Gesù Cristo, rivelazione e realizzazione della verità e della carità, rende la Bibbia perfetta, possiamo dire, rivelazione della verità. Gesù stesso poi ha detto, lo Spirito Santo vi porterà alla verità tutta intera, attraverso anche la parola. La parola ha una sua efficacia che si chiama, un po' così in gergo, performativa, nel senso che le parole della Bibbia operano ciò che dicono. Vanno associate ai sacramenti naturalmente. Infatti i sacramenti celebrano la parola e la rendono salvezza. Quindi bisogna capire proprio questo, che l'uso, nella liturgia, è l'uso, possiamo dire, più pieno della parola di Dio, dove lo Spirito Santo fa diventare efficaci le parole e le realizza in Cristo risorto e ce le offre come un dono. I sacramenti sono una maniera di partecipare alla salvezza di Gesù, a Cristo tutto intero. E quindi ha questo potere la parola di Dio. È un potere importante che nessun altro scritto sulla terra ha. Quindi è una cosa molto delicata. E poi ha un valore paradigmatico. Paradigma significa in qualche maniera un modello, ecco, che si deve associare, coniugare con la realtà. Quindi ha un potere, possiamo dire, sia formativo che anche questa forma ci dà anche una fisionomia. Quindi la parola di Dio serve anche come un modello di vita, possiamo dire. E questo è importante. E poi ha una relazione con la natura, con la vita naturale, perché è analogica alla natura. Significa che hanno tante cose simili. Possiamo dire che la creazione è la migliore somiglianza con la redenzione. Gesù stesso ha detto, per esempio, guardate il seme, come il chicco di grano che marcisce. Guardate l'agricoltore, guardate la spiga, ecco, guardate tante cose, la luce, per esempio, le tenebre. Ecco, tutta questa realtà che viviamo ha una, qualche cosa che ci indica l'invisibile, il mondo di Dio. Quindi è importante anche, diciamo, anche dal punto di vista simbolico, nel senso proprio pieno della parola simbolo. Cioè è come si riferisce a qualche cosa di altro. Quindi tutta la realtà ci parla anche di altro e ci comunica qualche cosa. È un modo di guardare alla realtà che va oltre la scienza. La scienza analizza soltanto come è fatta la natura. Qua invece la natura si esprime nel suo valore. Ci dice che cosa significa il significato. Infatti, diciamo l'altra volta, quando la scienza diventa troppo teorica, tante volte non sa sposarsi con la vita, la distrugge la vita. La scienza, la tecnologia, vissute in maniera difforme, diversa dalla vita, staccata dalla vita, a tavolino, e diventa pericolosa perché è il classico scienziato di cui aver paura, che può fare cose che distruggono poi la vita. Dicevamo anche sul discernimento. Il discernimento, dicevamo, era qualche cosa che anche di fondo non è la semplice scelta. Dicevamo un esempio. Il gatto fa le scelte da gatto. L'asino fa scelte da asino. Il maialino fa scelte da maialino. Il figlio di Dio, la creatura umana, che non è automaticamente guidata dall'istinto come gli animali, può anche sbagliare. Ci può essere un uomo che si comporta da maiale. Infatti, tante volte l'uomo si comporta peggio di una bestia, diciamo noi. Perché? Perché di fatto il primo discernimento è capire chi siamo, la nostra vera costituzione, le creature come siamo state create da Dio. Non ci possiamo immaginare noi chi siamo, non dobbiamo inventarlo noi. Cioè un'aquila non deve inventarselo lei di essere aquila, non deve imparare a fare l'aquila. O meglio, si sente aquila e impara a fare quello che è. Quindi anche noi dobbiamo, prima di tutto, trovare il nostro rapporto con Dio. Dicevamo, parlavamo per il discernimento di un passo biblico che sarebbe il primo versetto del Vangelo di San Giovanni. e il verbo era presso Dio, era rivolto a Dio. Cioè il rapporto tra Gesù e suo padre diventa poi la matrice, anche quando è incarnato figlio fatto uomo, rimane figlio di Dio e da figlio di Dio porta a compimento la salvezza. Quindi il primo discernimento è quello di trovare il nostro rapporto con Dio e con la nostra stessa costituzione di uomini. E questo ce lo può riveladare Dio che ci ha creato. Poi a poco a poco, man mano anche, dobbiamo dire un'altra cosa, che di fatto poi dobbiamo non essere in balia del nostro io, perché se poi ognuno è in balia di se stesso, purtroppo dice San Bernardo di Chiaravalle chi si fa discepolo di se stesso si fa discepolo di uno stolto, perché noi abbiamo bisogno sempre di un dialogo, cioè di qualche cosa, di un confronto, se vogliamo anche di un'opposizione, di una diversità. Abbiamo bisogno di avere un rapporto, come dicevamo l'altra volta, anche comunionale, nel senso che ci sono due realtà che vengono in comunione. La verità, la realtà è sempre stereofonica, o meglio ancora, come diceva von Balda, è sinfonica. Cioè ci sono tanti suoni che insieme devono dare un'armonia. Quindi la singola persona, la singola realtà, l'individualismo, di fatto impedisce tante volte di fare le scelte, perché di fatto l'individuo, che si sente individuo separato dagli altri solo, fa scelte già che sono pericolose in partenza, perché parte da una situazione sbagliata. Quindi il rapporto con Dio crea le situazioni per poter fare le scelte migliori. Per questo a proposito di ricominciare, dobbiamo dire che anche questo fa parte del ricominciare. Cioè se una persona è abituata a sentirsi sola, a considerarsi sola, a sentirsi non in comunione con Dio e con gli altri, di fatto non ricomincia bene, perché comincia da una base sbagliata, comincia da un... in partenza già è sbagliato, non è conforme alla sapienza e alla verità di Dio. Quindi Gesù stesso in Giovanni 8 ha detto solo quando ci facciamo discepoli suoi diventiamo liberi, perché conosciamo la verità che Lui ci rivela, la verità anche di noi stessi, e questa verità ci rende liberi. Ma se noi non facciamo questo percorso in un modo o in un altro, in maniera implicita o esplicita, se non desideriamo la verità tutta intera, la sapienza di fatto, noi cadiamo in balia del nostro io e diventa sempre un po' pericoloso. Dicevamo l'altra volta che la storia, ecco passiamo ad altro, la storia, il terreno storico, è il terreno su cui le prime pagine della Bibbia, come tutta la Bibbia, si è impostata. Quindi se noi alla Bibbia, apriamo la Bibbia e chiediamo quello che diciamo fa parte della nostra cultura, senza rispettare la storia con cui è stata partorita la Bibbia, in effetti noi non abbiamo nella Bibbia le risposte, perché la Bibbia non dà le risposte a noi. La Bibbia ci comunica come Dio ha operato, ci comunica la sapienza come un dono, tanto per dire, apriamo la Bibbia e la prima cosa che leggiamo, vi leggo i primi cinque versetti intanto, in principio Dio creò il cielo e la terra, la terra era in forma e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse sia la luce e la luce fu. Così a un certo punto è meglio che ci fermiamo qua, perché se no c'è troppa carne al fuoco. Le prime due parole, in principio, Bereshit, e in principio non è che noi ci rendiamo conto qual è questo principio, perché per esempio in ebraico Bereshit è un avverbio, inizialmente sarebbe una specie di cose del genere, ecco, inizialmente. Per noi invece il principio, anche nella Bibbia greca, è un po' come in italiano, nel principio, cioè è già un po' diverso, ci sono stati scritti fiumi di inchiostro, pagine intere tra cultura ebraica e cultura greca nei secoli, perché quando tradussero la Bibbia in greco, che era un po' l'inglese di oggi, tradussero in arche Bereshit, però non è che si riesce a esprimere bene. Pensate per esempio che tutti gli studiosi dicono che tutta la frase è come se inseguisse la parola sia la luce, come se quello che c'è prima è solo una specie di corridoio per arrivare a sia la luce. Tradotto in italiano non è che poi si esprime bene questo concetto, per cui ogni traduzione è un po' un tradimento, per questo poi bisogna specificare alcune cose. Quindi poi per noi il principio è, siamo figli della Grecia pure, della cultura greca, di tutta l'ontologia neoplatonica, post-platonica, che sto qua, in principio per noi è il momento in cui non c'era niente. Però gli ebrei non avevano il concetto del vuoto, per cui questo principio in realtà, se ci fate caso, in principio Dio creò il cielo e la terra, la terra era in forma e deserta. Allora dice un attimo, Dio trovò già una massa in forme? Ma queste sono domande occidentali, infatti, guardate che cosa dice uno dei più grandi esperti in questo campo, dice, lo per loro non era importante che il cielo e la terra abbiano avuto un inizio storico, ma che la creazione della terra e del cielo sia stata l'inizio di tutta la storia. Cioè loro non avevano la mentalità dei greci, sapete, soltanto nel mondo greco il concetto di creazione dal nulla, creazione ex senilo, dicevano i latini, era un concetto diciamo più occidentale, possiamo dire, il nulla, ma l'ebreo, se tu ci dicevi all'ebreo ma che è sto nulla, che tu dicevi, ma che esiste, nulla che significa, l'aria, cioè lui, il concetto di nulla non è che è facile poi filosoficamente da definire, perché noi nulla, perché anche una stanza dove non c'è niente, c'è l'aria che non è nulla. Quindi anche quando creiamo il sottovuoto sotto in una scatola, ecco, tiriamo fuori l'aria e creiamo il sottovuoto, ma quello è il nulla. Ora, adesso non entriamo in tutte queste cose, però in ogni caso quando si dice il primo versetto in principio Dio creò il cielo e la terra e il secondo versetto la terra era in forma e deserta e le tenebre coprivano l'abisso, loro già partivano da qualche cosa di concreto. Qual era la cosa concreta? Questa terra in forma e deserta in realtà era la vita che stavano vivendo loro, perché vi ricordate il concetto storico qual è? Loro stavano vivendo una crisi, erano proprio, possiamo dire, a terra, erano distrutti. allora avendo avuto l'ispirazione di rinascere si sono immaginati ma siamo, vi ricordate, siamo alla fine del VI secolo avanti Cristo, l'inizio del V secolo, quindi tra il VI e il V secolo avanti Cristo e loro avevano avuto tante traversie. Allora partivano da questa realtà loro, era questa però loro era l'inizio, perché era, siccome stavano pensando a un inizio si sono immaginati giustamente come avevano fatto l'esperienza loro quello che c'era all'inizio quando Dio mise mano al mondo. Quindi era un problema pratico. Questo è bellissimo in effetti perché è molto più concreto di quanto magari un teorico può pensare perché proprio l'inizio ci dice proprio questo che intanto è un fatto storico non si parte da teorie si parte dalla storia quindi la storia concreta è il terreno su cui Dio realizza la salvezza. Se ci fate caso anche oggi che stiamo vivendo storicamente un periodo di grande sofferenza di grandi crisi ora oltre all'epidemia ai morti che ancora continuano ne muoiono centinaia al giorno nel mondo forse migliaia e ancora continuano a morire c'è anche il problema che se ci sono dei dei crolli economici enormi la gente si riduce alla fame anche in Italia siamo ridotti male siamo in pericolo forte quindi noi partiamo da un fatto concreto noi siamo nelle condizioni proprio in cui Dio ha bisogno che intervenga e si parte da questa base da questo deserto tenebroso terra in forma e deserta questo modo di parlare di definire con due sostantivi è importante perché fa capire meglio un pochino allarga un po' diciamo l'idea la terra era in forma e deserta le tenebre che obrivano l'abisso da questa situazione interviene Dio ecco e loro quindi non hanno la nostra esigenza se volete per curiosità poi dobbiamo arrivare a 150 anni prima di Gesù Cristo quindi recente al Vangelo la prima volta dopo l'influsso della mentalità ellenistica greca che nella Bibbia si parla di creazione dal nulla quindi siamo ascritti possiamo dire alla fine dell'antico testamento quindi siamo molto vicini a Gesù ecco un secolo e qualche cosa prima di Gesù il secondo libro dei Maccabee per la prima volta parla di creazione dal nulla che è la cosa per noi invece iniziale quindi immaginatevi con la mentalità occidentale che abbiamo noi erede della Grecia erede dei latini a un certo punto apriamo la Bibbia e cominciamo a vedere che in principio per noi è un principio di tipo temporale altro che avverbio è un un riferimento temporale quando non c'era nulla ed è completamente fuori della logica degli ebrei ripeto allora interessava che iniziò la storia loro la storia vera dove agiamo dove noi agiamo nel bene e nel male costruiamo demoliamo miglioriamo peggioriamo nasciamo moriamo distruggiamo costruiamo questa è la storia anche oggi per esempio noi vorremmo fare a meno della storia infatti vedete che tante volte e anche gli studiosi gli scienziati sono hanno pareri diversi i teorici hanno ipotesi si fanno sempre ipotesi diverse poi anche i governanti oggi dicono una cosa domani cambiano le situazioni ne dicono un'altra vi accorgete che di sicuro non c'è niente allora noi abbiamo la necessità di accogliere questo testo come una proposta che Dio fa anche a noi come ha fatto allora per rigenerare la nostra esistenza ti dico come Dio iniziò questo sarebbe ti dico come Dio iniziò indipendentemente dal fatto come ha creato il Big Bang queste cose non sono problematiche scientifiche che la scienza un giorno se ci arriverà potrà capire ma la Bibbia non entra in questo orizzonte scientifico che è troppo piccolo non per altro è troppo materiale qua si tratta invece che lo Spirito Santo ispirò proprio il senso dell'inizio ecco diciamo il senso dell'inizio il Signore operò in questa maniera al di là del fatto scientifico che poi ripeto se la scienza un giorno ci darà una mano quindi all'inizio di ogni cosa c'è Dio questo guardate è una frase ingenua cioè noi arriviamo che già la tavola è consata cioè noi arriviamo che già Dio ha fatto le sue scelte non è una cosa le cose non iniziano con noi le cose le troviamo già fatte è come il cuoco che a un certo punto tu sei in casa state insieme tra amici una volta ci stava ormai non possiamo stare più ma mettete che una volta quando era quando era possibile invitare due tre famiglie in casa a un certo punto veniva l'ora della cena allora dice e ceniamo insieme allora che lui si senteva al cuoco diceva vediamo che c'è un frigorifero e quindi utilizzava le cose già fatte quindi noi abbiamo bisogno prima di tutto di fare lo sforzo di accettare quello che siamo voi pensate per esempio noi siamo nati siamo nati e abbiamo dovuto accettare la famiglia dove siamo nati anche i nostri genitori hanno accettato il figlio o la figlia che è arrivata ci sono cose che non scegliamo noi i tempi i modi le situazioni il dna noi potevamo nascere nel 1800 se fossimo stati in altri secoli invece del coronavirus ci sarebbe stata la peste non è che se ne andavamo meglio però di fatto siamo ora i nostri genitori hanno dovuto fare la guerra ma non le abbiamo scelte noi quindi la prima cosa per ricominciare in principio è Dio che crea il cielo e la terra ce la facciamo noi ad accettare le cose che già ci sono noi possiamo operare anche senza accettare quello che abbiamo guardate che questo io vi direi di prendere appunto perché tante volte noi non riusciamo ad accettare e ad apprezzare le cose come un dono spesso ci si lamenta della famiglia dove si è della faccia che si ha del corpo che abbiamo e questa perché ci lamentiamo non accettiamo la realtà non accettiamo la realtà perché non ci siamo fatti noi noi ci saremmo fatti diversamente ma non è così nel libro c'è una bellissima frase che dice la nostra testa a volte crea e si dimentica che è Dio l'unico creatore e quindi noi creiamo ma sapete che creiamo ideologia si chiama poi quando queste idee a un certo punto si sistematizzano cadiamo in una visione ideologica della vita cioè che non è reale vedete che è terribile questo perché è come se non accettassimo quello che già o non apprezzassimo quello che già abbiamo sapete una cosa è essere contenti di quello che si ha e l'accoglienza è la strada della vera sapienza e della vera intelligenza assecondare per esempio nel legno le venature che ha le fibre come scorrono o nel marmo seguire quello che già c'è e utilizzarlo bene è già l'inizio di una cosa buona accettare le scelte che Dio ha fatto è già il principio di una vera conversione vedete non è detto che la gente che venga in chiesa abbia o che prega abbia accettato le cose come sono come ce le ha date Dio tanta gente parte già da questo che non è contenta di come è nata quando è nata la famiglia dove è nata la faccia che ha la statura che ha i limiti e le cose buone l'errore che abbiamo fatto tutti e non avere rispettato e accettato le cose che ci sono state date non essere contenti di quello che Dio ha creato e quindi già a partire con un atteggiamento critico pensate che giustamente fa l'autore dice è come se io già fossi in una partita di tennis dove non faccio mai io il servizio cioè non batto io mai la palla ricevo sempre e quindi ricevo sempre una palla che gira in un modo e ha delle anche delle cose che di fatto poi poi io non accetto o devo in qualche maniera adeguarmi alla palla che mi arriva perché arriva come arriva la palla quindi non ho deciso io quello da cui parto io posso intervenire già mentre mentre sono in gioco devo obbedire alle cose come sono questo è un trauma per molte persone il primo mio nemico sono due gemelle figlie di due coniugi pericolosi questo non lo dice il libro questo mi è venuto in mente e lo dico io perché non lo trovate nel libro le due figlie gemelle di due coniugi egoismo e superbia si chiamano pretese e aspettativa ora queste due la pretese e l'aspettativa figlie dell'egoismo e della superbia sono terribili perché se io non le smonto e mi lascio condizionare dalle mie pretese dalle aspettative non accetto niente devo partire dalla situazione dove mi trovo devo partire dalla situazione anche di a volte precaria sofferente se non accetto quello che ho se non accetto quello che ho noi creiamo dei problemi a tutti l'accettazione è la cosa più importante perché crea l'atteggiamento con cui io vivo Gesù infatti in Marco 7 15 vi ricordate che ha detto quello che c'è nel cuore è importante non quello che entra da fuori ma quello che esce da dentro quindi se io per esempio assolutizzo un atteggiamento per esempio negativo cioè io non accetto per esempio le persone che sono con me non accetto la loro miserie non accetto la realtà il paese dove sono nato la famiglia dove vivo la nazione dove sto se io non accetto anche il clima mettete che una persona sia nata in un clima rigido ma non l'accetta la condizione là cioè parte da una irritazione da una da un possiamo dire da un atteggiamento che è negativo è un rifiuto una rabbia che poi in questa maniera diventa anche l'inizio sbagliato che poi l'inizio di tanti errori tu tante volte ti chiedi ma come mai questa persona senza niente si agita per una cosa da niente è agitato per una cosa da niente siamo un po' fondamentalmente tutti siamo un po' partiamo da queste cose e dobbiamo convertirci ma tante volte c'è gente che è esasperata in questo senso che senza di niente è arraggiata proprio non accetta è arrabbiata dentro per cui basta una cosa da niente già per fare errori perché non parti da una base di accettazione senza imparare ad inghiottire è difficile costruire prima aghiottere prima devi imparare a deglutire devi imparare a digerire quello che hai in bocca poi puoi costruire qualche cosa ma se tu non inghiotti ma ti resta qua nella gola ti affoghi devo partire sempre dalle cose che sono se non le accettassi io partirei male così per esempio anche chi si sposa senza accettare le cose come sono io parto male se per esempio una persona per sposarsi non può dire ecco le cose su così così poi le aggiustiamo non sono contento però no sono così con il nostro limbo se tu li accetti poi puoi migliorare ma deve avere un atteggiamento di accoglienza di accettazione chi non accetta le cose così come sono parte con tre cose negative che dice il libro con amarezza scoraggiamento o illusione quindi se una persona deve in qualche maniera essere fondamentalmente contento di una persona di una realtà deve accettarla così com'è poi nell'accettazione della situazione della persona tu puoi con Dio aiutare a camminare però se non c'è questa capacità di accettazione in effetti non si parte male quindi mettiamoci nella condizione storica fine del sesto secolo avanti Cristo Israele era in una situazione di fallimento di distruzione di delusione era un deserto in forme era come uno straccio diremmo noi da questa situazione Dio gli ispira di rivedere l'inizio è come se il Signore gli dicesse vedi che all'inizio l'umanità era così e quindi da lì poi il Signore gli fece capire come agì Dio in quella situazione quindi la terra in forma deserta è una desaluzione tenebra deformità caos e qui il testo diciamo è come se fosse fotografa la parola la terra era in forma deserta fotografa idealmente la situazione in cui viveva Israele e il Signore gli ispirò come aveva operato all'inizio quando lo trovo così le tenebre coprivano l'abisso descrivono l'attuale situazione che determinò un nuovo inizio noi questo lo poi i profeti Geremia e Isaia ora vi piglio due passi Geremia e Isaia utilizzano la stessa procedura per parlare di un inizio ecco Geremia sto leggendo Geremia 4 23 26 Geremia 4 23 26 guardai la terra ed ecco vuoto e deserto i cieli e non vera luce guardai i monti ed ecco tremavano e colli ondeggiavano guardai ed ecco non c'era nessuno e tutti gli uccelli dell'aria erano volati via guardai ed ecco il giardino era un deserto e tutte le città erano state distrutte dal Signore e dalla sua ghilardente questo è un altro paio di maniche perché loro pensavano che Dio facesse anche queste cose a quei tempi un altro passo è Isaia 45 18 Isaia 45 18 utilizza lo stesso metodo poiché così dice il Signore che ha creato i cieli egli è il primo che ha plasmato e fatto la terra e la resa stabile l'ha resa non l'ha creata vuota ma l'ha plasmata perché fosse abitata io sono il Signore e non ce n'è altri ecco dovete pensare che anche San Giovanni in Giovanni 1 proprio all'inizio del Vangelo utilizza la stessa l'inizio come l'inizio della Bibbia per iniziare la storia della salvezza in principio Enarchè che poi lui lo scrive i Vangeli sono scritti in greco però la mentalità è ebraica in principio Bereshit in principio era il verbo e quindi anche ritorna questo Enarchè al principio all'inizio questo testo si presta a delle interprezazioni che catechisticamente purtroppo sono state utilizzate ma sono state sbagliate perché rispecchiano più la mentalità poi pagana che quella che quella la rivelazione di Dio in effetti si presta a una interprezazione ovvia quale sarebbe se tu non conosci queste cose che stiamo dicendo non le valuti bene tu pensi che la Bibbia ci dica che Dio trova il caos e attraverso la parola crea il cosmos cioè l'armonia la bellezza da cui cosmetico ecco come se il Signore più che creatore fosse una specie di operatore una specie di miglioratore una specie di estetista ecco una specie di vasai una specie di demiurgo come dirà poi tutta la mentalità ignostica greca come se Dio diciamo più che creare una cosa nuova e sia uno che fa passare dal caos al cosmos cioè da una cosa in forme da un deserto un giardino bello solo che questa non dice il testo questo questa è un'interpretazione possiamo dire un po' maccheronica un po' più che altro nostra perché mettere insieme la parola caos e cosmos e in mezzo il logos da cui poi logica noi la parola le cose che si capiscono e non è questa la rivelazione di Dio perché perché ci sono due problemi gravissimi che se noi accettassimo questa rivelazione sarebbe in contrasto con tutta la Bibbia perché perché Dio avrebbe dovuto creare prima il caos e poi farlo cosmos come se avesse fatto prima la brutta copia come se prima la Fiat facesse lo sfascio delle macchine e poi fa le macchine la fabbrica delle macchine è una cosa strana cioè non sta in piedi con la Bibbia sarebbe una cosa veramente diciamo è un'interpretazione che sembra ovvia ma porta a essere sconclusionato perché sarebbe come se il Signore avesse fatto prima un errore e poi l'ha corretto non ci sta in piedi c'è qualcosa che non va e poi c'è un altro fatto che se accettassimo questo rapporto fra caos logos e cosmos c'è le cose da accettare sarebbero solo le cose logiche ma noi vediamo che Cristo si scontra con la realtà perché anche se non è non è facile per noi diciamo renderci conto che quello che a noi sembra il caos perché altrimenti penseremmo che quando non interviene Dio c'è il caos però quando interviene Dio tutto diventa logico il cosmos ma questa è una cosa troppo legata a noi anche perché se indaghiamo la realtà cioè la vita non è che è caotica a noi sembra caotica se voi vedete quando ci fanno vedere i video dove si vede dal satellite la meteorologia sembra un caos di vento uno capisce perché perché in effetti a noi sembra un caos tutto quello che non conosciamo se per esempio una persona aprisse il telefonino e vedesse tutti i filini dentro dice ma che caos che c'è se una persona sale su un aereo e vede la plancia dell'aereo pare un caos di tanti monitor di tante cose che non ci capisce che non ci capisce niente in effetti sembra caos a noi le cose che non capiamo in effetti anche uno studente deve passare deve superare il senso di caos no uno studente che si prepara una materia passa la fase del caos pare che non capisce niente se si presenta all'esame con la testa nel caos perché ha incamerato tante cose non le ha anche capite ancora bene maturate se ne accorge un bravo professore subito che ha studiato ma ha studiato male però quando è che è preparato quando dal caos che pare tutto confusione a un certo punto si chiariscono le idee e alla fine solo alla fine capisce l'indice del libro che sta studiando pare strano ma è così alla fine soltanto le persone più preparate riescono a capire che l'indice del libro che sta studiando è così per esempio chi è abituato per esempio a suonare per esempio uno strumento singolo come classicamente c'è quando ora ci sono tutti questi strumenti elettronici dove tu trovi mille bottoni perché sembra un caos perché uno dice mamma mia che devo fare perché uno è sembra un caos ma non è un caos perché se tu poi entri dentro a poco a poco capisci le cose per una persona che non ne capisce di cucina se entrasse in una cucina di un di un ristorante sembra che sia lo chef sia che gli altri fanno caos c'è una confusione enorme ma non è un caos è un apparente caos perché non ne capisco quindi il concetto di caos che dicevamo prima come se prima è da rigettare in effetti è il mio limite anzi ironicamente l'autore Fabio Rosini dice io glielo dicevo a mia mamma che la mia stanza non era nel caos era un'altra logica era una logica superiore dice mia mamma non la capiva con la sua logica che la mia stanza non era nel caos era una battuta tanto per fare ridere però è così dobbiamo dire che quello che noi chiamiamo il caos quello che noi chiamiamo la terra deforme tenebrosa è la situazione che viviamo che può anche essere diciamo caotica ma voi pensate per esempio il concetto di simmetria non esiste nella natura cioè le donne che si truccano sanno bene che gli occhi sono diversi e che fanno fatica a mettere insieme il trucco noi non siamo simmetrici i due emisferi del cervello sono diversi la faccia non è uguale destra e sinistra le braccia non sono uguali pura pressione misurata a destra e misurata a sinistra è diversa noi non abbiamo è terribile noi non l'accettiamo noi rischiamo guardate le persone che non accettano questo apparente caos passano tutta la vita a cercare di aggiustare i cosi c'è gente che vorrebbe il mondo a quadretti preciso sapete come lo riporta pure il libro ma questo lo sapevo il bambino che il primo giorno di scuola gli dicono la maestra gli dice a casa devi fare una pagina tutti con O impara a fare la O tutto uguale zero tutto uguale il bambino la piglia troppo sul serio dopo che fa il primo cerchio il secondo lo vuole fare come il primo ma non ci riesce a farlo uguale e allora cancella e lo fa di nuovo e passa tutto pomeriggio a cancellare fino a quando si strappa il foglio perché non lo puoi fare uguale preciso non esiste il fatto di farlo uguale preciso voi pensate che nella Bibbia questo è terribile voi pensate che uno dei segni della pretesa dell'uomo è fare i mattoni nella Bibbia che è terribile nella Bibbia negativo perché Dio vuole che si costruisca con le pietre che sono tutte diverse una dall'altra la pretesa di fare i mattoni tutti uguali è un segno del fatto che io voglio inquadrare le cose come le voglio io e non è una cosa sapete un valore simbolico non facile ecco voi pensate per esempio che anche in un ospedale sembra che tante volte uno ha confusione perché noi non ne capiamo anche una ricetta per esempio ma anche una non so una diagnosi medica certe volte noi non ci rendiamo conto è come se fosse una cosa confusa ma loro capiscono perché uno deve capire entrare in quella logica particolare così è la musica così per esempio dobbiamo capire che anche dicevo anche il nostro corpo in qualche maniera non è come lo desideriamo noi ci sono tante cose che non sono come dovrebbero essere quindi giustamente siamo ancora all'inizio della Bibbia e il Signore ci dice senti tu devi intanto accettare quello che io ho accettato se voi ci fate caso Gesù ha accettato la vita così come San Giuseppe pure lui ha avuto confusione non sapeva quello che doveva fare ma ha accettato questo quello che a noi sembra un caos è la realtà da cui si parte e quindi vi accorgete che già la Bibbia proprio all'inizio ci dice un elemento che noi dobbiamo tener conto proprio come inizio anche qualcuno che vuole per esempio ricominciare una nuova vita non è che può cancellare quello che vive deve partire da quello che vive da quello che ha poi c'è da dire un'altra cosa non solo il caos ma anche stabilire che cos'è normale vedete che non è facile capire che cos'è normale perché può essere normale per noi una cosa che per non so uno dei problemi dell'Italia è che ci sono culture diverse ciò che è normale per una persona della cultura del nord non va bene per la cultura del sud e viceversa è inutile che facciamo storie l'Italia è un insieme di culture molto diverse per cui se non si diversifica anche il modo di vivere il modello che può andare bene nel Friuli se tu lo vai in Calabria o in Sicilia non funziona più perché quello è normale per là ma non è normale per qua per cui bisogna accettare la realtà e cercare di sfruttare le situazioni migliorandole dalla base che abbiamo da quello che abbiamo noi qua abbiamo un mare un cielo una temperatura che non ce l'hanno in in Trentino che non c'è in Piemonte per cui noi dobbiamo partire da questa base per capire qual è il nostro sviluppo e questo non è stato fatto purtroppo vabbè che l'Italia è da poco da 150 anni da 180 anni che insieme quindi di fatto stavamo meglio prima anche se si stava peggio onestamente ma stavamo in un certo senso meglio prima perché avevamo una gestione diversa dal nord e quindi l'unione è stata fatta a livello possiamo dire militare e politico ma vedete che non c'è una vera unione ancora di mentalità voi vedete anche ogni regione anche con questo coronavirus ogni regione ha esigenze diverse ogni regione si gestisce tende a gestirsi in modo diverso non siamo preparati in effetti ancora a questa diversità dobbiamo renderci conto che le prime parole della Bibbia ci mettono già in crisi da questo punto di vista siamo nel caos e siamo tutti che siamo nel caos siamo nel fango siamo nella melma siamo nella crisi chiamiamola così siamo in una situazione deserta e deforma nel buio va bene questo versetto va bene ma è da qui che Dio vuole partire per darci un nuovo inizio io penso che sia importante meditare su questo perché a un certo punto se uno vuole essere non tener conto della situazione reale non parte dalla realtà cade nell'ideologia l'ideologia quale sarebbe è un po' il letto di procuste no io preparo un letto che è un mese settanta e allora se viene uno che si correga che hanno un mese e novanta ci tagliamo perché oppure se una persona è un mese e sessanta ci tiri per arrivare a un mese e settanta si deve partire dalla realtà e quindi la Bibbia ci chiede di stare coi piedi per terra pare strano che la Bibbia perché tante volte la gente pensa che per avere fede bisogna non essere realisti e invece la Bibbia ci dice che per essere veramente nel piano di Dio e nella vera fede bisogna essere coi piedi per terra Dio parte possiamo dire dalla situazione reale coi piedi per terra Gesù si è fatto vero uomo e infatti a un certo punto vi ricordate che Gesù disse lascia che i morti seppelliscono i loro morti come per dire lascia che le cose che non si possano aggiustare che non si non ci andare appresso cioè le cose che sono destinate a perire tu lassale perire ma tu pensa che da quelle cose ci sono altre cose più importanti e quindi stiamo attenti alle persone che cercano sempre di sistemare tutto di sistemare le cose voi vedete anche i genitori che vogliono sistemare i figli che vogliono sistemare tutto che vogliono fanno guai enorme ecco siamo sempre mancanti di qualcosa siamo sempre impreparati impresentabili insoddisfatti arrabbiati e delusi e voi sapete per esempio tante volte non si accettano i figli come sono certe volte non si accettano i genitori come sono certe volte non si accettano i coniugi come sono gli amici come sono i colleghi come sono lo stato come è l'umanità come è la vita come è se una persona non accetta le cose come sono da quel con quello che c'è non può capire come Dio lo vuole aiutare perché Dio parte invece dalle cose come sono e voglio concludere ricordandovi questo che in realtà un ordine più grande c'è anche quando morisse un bambino e Dio proprio permette che muoia proprio a noi sembra che è un caos ma vedete da parte di Dio c'è una logica quando morì pensate quando morì Santa Maria Goretti che fra l'altro la volevano violentare vi ricordate 12 anni e la uccisero proprio perché lei non si è lasciata aggredire sembra una tragedia un caos soltanto però poi negli anni vedendo come è morta vedendo come ha chiesto prima di morire in ospedale Santa Maria Goretti ha detto ditegli che lo perdono e poi da quel perdono quel suo uccisore dopo aver fatto tanti anni di carcere si consagrò a Dio si fece frate e morì in fama di santità quindi da quello che sembra una tragedia senza senso il Signore poi negli anni ha fatto capire che aveva un senso di salvezza quindi c'era una logica superiore dobbiamo stare attenti perché altrimenti facciamo la fine di sapete di quello che dice l'autore fa un esempio bello anche lui è molto ironico dice c'è gente che critica tutto è come se sapesse valuta le cose che non vanno bene quello non va bene e poi lui non sa usare manco il cavatappi che ci dice devi aprire una bottiglia di vino e non lo sa fare se non sai usare manco un cavatappi dice poi a un certo punto vuoi capire i cose alti ti sembrano certo caotiche quindi Gesù stesso ha accettato quello che per noi è inguardabile che la la massa proprio deforme così e l'ha trasformata in salvezza questo è l'inizio dice l'inizio del primo giorno non abbiamo finito il primo giorno perché in effetti il primo giorno anche nel libro è il più lungo perché è quello che dà un po' un'impostazione però ci sono cose troppo interessanti secondo me ci sono cose che devono essere assorbite nella nostra vita perché altrimenti si sbaglia è un'impostazione che è un'impostazione che è un'impostazione che è un'impostazione che è un'impostazione